Salve a tutti, il mio nome è John Ryan, nato in Italia, operativo oramai in tutto il mondo da quasi 40 anni, nel campo dell'audio, specificamente come phonico freelance, anche chiamato sound engineer. È un lavoro molto bello, che comporta certo molto viaggiare, però ha tanti vantaggi, del tipo conoscere persone di paesi diversi, di culture diverse. È un mestiere dove io dico che si impara tutti i giorni, non si finisce mai di imparare, i metodi e i modi di affrontare un lavoro sono molteplici, è veramente all'ennesima potenza. Io sono qui a Firenze, nella Fanny Motors, a un evento organizzato dalla Yamaha, un evento che io definisco audio e moto, anziché auto e moto, perché la Yamaha ha voluto convogliare nella stessa giornata, nella stessa sede, i suoi prodotti di moto, oltre ai prodotti di audio. Si è parlato chiaramente di audio consumer, di audio professionale, ma fondamentalmente oggi il discorso si basava sull'audio install. Questo evento mi ha fatto piacere, anche perché ho incontrato delle persone che non vedevo da anni, persone della Yamaha con le quali ho avuto a che fare in passato. Io sono uno dei pionieri del vecchio sistema digitale PM1, forse il secondo o il terzo in Italia ad averli usati, quindi mi sento un po' parte di questa famiglia. Ringrazio la Yamaha. Salve.